Ero qui che me ne stavo tutto solo a strimpellare il mio basso ma io cercavo di imparare a strimpellare qualche nota quando mi è venuto in mente che mi stavo dimenticando di fare l'introduzione alla videoguida di Giuseppe Dilena la videoguida dedicata alle casse Yamaha HS80M il nostro amico un po' instabile diciamo nelle riprese ma troppo simpatico che io saluto affettuosamente e che tra l'altro è un bravo tecnico del suono a quanto mi risulta ha fatto un video, ti dà la possibilità di vedere in maniera sintetica quali sono le caratteristiche principali e gli utilizzi principali che puoi fare di questi monitor lui li possiede quindi li ha provati e se lui dice che sono buoni direi che ci possiamo anche fidare in ogni caso ti lascio la sua video introduzione e subito dopo il video di approfondimento che come sempre ti consiglio di visualizzare ciao un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording io sono Giuseppe Dilena del Latin Studio di La Terza, provincia di Taranto puoi visitare la mia pagina profilo scuolasuono per ulteriori dettagli bene amici, in questa video guida parleremo delle Yamaha HS80M cosa sono? sono monitor da studio, near field, cioè casse acustiche in pratica near field sta per campo vicino, tradotto dall'inglese e vuol dire che verranno posizionate vicino al fonico circa un metro o un metro e mezzo di distanza trovano praticamente la loro massima espressione a questa distanza che differenze possiamo trovare con altri tipi di impianti tipo i sistemi PA che sono impianti per il live i-fi o home theater innanzitutto la risposta in frequenza di queste casse è molto lineare cioè troveremo che tutte le frequenze che usciranno da queste monitor avranno, a parità di segnale, avranno lo stesso livello di volume mentre per i sistemi sopracitati, a seconda della loro applicazione avranno delle frequenze particolari, enfatizzate o addirittura tagliate poi un'altra differenza è che sono molto delicate non sopportano pressioni molto elevate quindi non sono indicate per un uso live caratteristiche tecniche innanzitutto una è l'estetica vediamo questo bel cono bianco che ricorda molto le più famose e datate Yamaha NS10 che possiamo trovare praticamente in tutti gli studi professionali del mondo sono casse a due vie con un woofer da 8 pollici da 75 watt e un tweeter da 1 pollice da 45 watt per un totale di 120 watt è un monitor attivo bi-amplificato cioè ha due amplificatori interni uno che amplifica il woofer e uno che amplifica il tweeter è di tipo bass reflex cioè un sistema di costruzione interno che permette di amplificare le frequenze basse e troviamo il foro del box reflex sulla parte posteriore e andiamo a vedere questa parte posteriore ecco qui il nostro foro di cui stavamo parlando prima e adesso vediamo cosa ci offre il pannello posteriore abbiamo un controllo di livello del volume una sezione di input dove troviamo un connettore XLR oppure Canon e un connettore jack poi una sezione di equalizzazione dopodiché un interruttore di accensione e la presa per l'accensione della corrente questo monitor si colloca in una fascia di prezzo che va dai 430 a 470 euro per la coppia ha un rapporto di qualità prezzo abbastanza buono per le caratteristiche che offre bene nel prossimo video vedremo di analizzare le caratteristiche tecniche sopra citate spiegheremo cosa servono tutti questi pulsantini e interruttori e vedremo anche il posizionamento in un home studio ti ricordo che per accedere al prossimo video dovrai effettuare la registrazione gratuita ciao